Novena alla Madonna del Rosario di Pompei, settimo giorno Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ripetiamo insieme, guidami, Signore, per una via di eternità. Mi hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Guidami, Signore, per una via di eternità. Meravigliose sono le Tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Guidami, Signore, per una via di eternità. Preghiamo insieme e diciamo Donaci, Signore, la Tua amicizia. Oh, Signore, Tu ami chi dona con gioia. Aiuta la Tua Chiesa a vincere resistenze, dubbi e paure nel dare il suo indispensabile contributo per la crescita dei nostri fratelli. Preghiamo. Donaci, oh, Signore, la Tua amicizia. Oh, Signore, Tu conosci il nostro bisogno di amare e di essere amati. Aiutaci a maturare le nostre relazioni umane per alimentare in noi e negli altri la gioia della vita. Preghiamo. Donaci, oh, Signore, la Tua amicizia. Oh, Signore, hai creato l'uomo e la donna a Tua immagine. Aiuta gli sposi cristiani a vivere nella tenerezza e nella fedeltà l'amore che si sono promessi perché ogni famiglia sia una piccola chiesa. Preghiamo. Donaci, oh, Signore, la Tua amicizia. Per le casalinghe che lavorano con umiltà e amore, per chi vive solo e abbandonato, per chi ogni giorno esce di casa per guadagnare il pane quotidiano, preghiamo. Donaci, Signore, la Tua amicizia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Beata Vergine Maria del Rosario di Pompei, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amin. Amin.